con il numero 2 e 15, con il numero 4 e 14, Planisi con il numero 16 e alc говорит me, con il numero 19, Moravolio con il numero 23 e 13, numero 27, la Regio di Carguerσει, con il numero 28лет Brenda torrano 30 attivi, la Regio è più inunque se take an, ciao a vero! Anzi è Pasqualini, arriva il cross per falla, Gira Rovinelli Protegge su Borrelli, non c'è fallo, fa giocare Sivilla, calcio in porta, calcio a lato, qualità, palleggio Metto bene per Napolano, calcio aperto per Verdesi, ma dentro fall Possibile, lo continuo per Verdesi, arriva il cross per falla, che la gira A lato, bella azione del portogastolo Ferri Marini, esce Zopoletti, uno contro due di Ferri Marini perché c'è anche Verdesi Arriva il cross, dentro, verso Nava Pronto Napolano finalmente Va dentro Va il cross dentro, Sivilla la tocca, Rovinelli a Nolcara, buono al limite, calcio in porta Calcio a lato Va dentro Napolano, sull'esterno della rete E come è promesso, fischia Luca Vittorio di Taranto Va lui dentro, cerca Rossi Calpisce di coscia, forse col ginocchio addirittura, mette alto Napolano, c'è a far profondo, va in porta Napolano Non c'è di reazione Calcio piazzato, colpo di testa di Petti, palla fuori Battista Tiro cross, Santilli, Parazzo, Boletti, calcio E portogastolo in vantaggio Tocca lui, proprio il ragazzino, proprio Zopoletti Un davanti portogastolo in vantaggio Nava, salta secco Petro Paolo Ma fino in fondo, arriva il cross, poi ne passa l'acqua, c'è il limite Nel canuto, poi Borrelli Andrà un attimo, si gioca a tiro, calcio Borrelli Va dentro, Fermi Marini, traversa La palla che sta ancora lì, Forgiuni non calcia, calcio di rigore Calcio di rigore Rafferri Marini, testa para Calcizia segna sulla ripattuta Nono dentro, contatto, testa para Palla dentro, contatto Si passa l'acqua, non finisca l'arbitro Rossi batte il calcio di posizione, palla dentro, rovinelli di testa Alto, non c'è più tempo, finisce qua Finisce 1 a 1 Tra Portogastoli e Ciccia e Malonga Non c'è più tempo, finisca l'arbitro